...e gentili deputati, desidero illustrare a quest'Aula la situazione in essere nel territorio libico sulla base della richiesta di alcuni gruppi parlamentari. Gli ultimi sviluppi in Libia, in particolare l'escalation militare, sono motivo di forte preoccupazione per l'Italia, così come lo sono e devono esserlo anche per tutta l'Europa e per l'intera comunità internazionale. Come è noto, sulla scia dell'operazione compiuta nel sud del Paese a parte del proclamato esercito di liberazione nazionale del generale Haftar, il cosiddetto LNA, dalla serata del 3 aprile forze del generale hanno avviato manovre di avvicinamento alla capitale. Il 6 aprile il Presidente del Governo di Accordo Nazionale, Serrage, ha inviato un messaggio televisivo alla Nazione, nel quale ha espresso sorpresa per l'aggressione nel corso delle trattative in vista della conferenza nazionale e ha assicurato una ferma risposta al da lui definitomi a telefono colpo di Stato. Le informazioni che giungono dal terreno, che risentono di un contesto oggettivamente complesso e soggetto anche a evidenti tentativi di disinformazione e propaganda, descrivono un quadro di situazione estremamente fragile, fluido e anche insidioso. Nel complesso si registra al momento un certo equilibrio nei rapporti di forza e alterne vicende sul piano militare, in un quadro tuttavia di crescente intensità e violenza, con l'utilizzo di raid aerei e l'afflusso su entrambi i lati di armamento pesante. La stessa missione ONU, la UNSMIL, ha segnalato un probabile aggravamento della crisi nelle prossime ore e nei prossimi giorni, in corrispondenza con l'atteso massimo sforzo di Haftar per entrare a Tripoli. Il succedersi degli scontri e l'aumento del numero di morti, stimati al momento in alcune centinaia e anche di feriti, ma anche degli sfollati, segnalano un concreto rischio di crisi umanitaria che va scongiurato rapidamente. L'emergenza umanitaria, con conseguenze, potete immaginarlo anche sui flussi migratori, così come il riaffacciarsi dello spettro mai sopito dell'insorgenza terroristica che ha dimostrato al recente attentato perpetrato da Daesh a Fuka, nella Libia centrale, impongono determinazione e rapidità di azione. L'insuccesso della missione al segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, che mi ha trasmesso la sua personale frustrazione nel colloquio telefonico di sabato scorso e il deterioramento sul terreno, hanno imposto la dolorosa e inevitabile decisione di rinviare la conferenza nazionale che era stata già programmata per il 14 e 16 aprile a Gadamesh. Tuttavia, al fine di non perdere i risultati raggiunti prima dello scoppio delle ostilità, il segretario generale Guterres ha confermato il suo impegno a convocarla al più presto, non appena le condizioni politiche e di sicurezza lo consentiranno. Come ricordato in queste ore dallo stesso Guterres, nel suo intervento anche al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nelle successive poi dichiarazioni a stampa, questa evoluzione non ci deve far deflettere dalla ricerca di una soluzione politica che è l'unica davvero sostenibile. Su impulso italiano, il 5 aprile scorso, i ministri degli esteri del G7 hanno rilasciato una dichiarazione congiunta sulla situazione in Libia che ben fotografa la nostra posizione. I ministri hanno in particolare riaffermato che non esiste una soluzione militare al conflitto libico, reiterato il pieno sostegno al segretario generale delle Nazioni Unite Guterres e al suo rappresentante speciale Gassin Salamè per trovare una soluzione allo stallo politico verso elezioni credibili e pacifiche in linea con quanto convenuto da ultimo nel corso della conferenza che si è svolta nel nostro Paese a Palermo. Gli stessi ministri degli esteri hanno fatto appello a tutti i libici affinché sostengano costruttivamente il processo onussiano. Hanno invitato la comunità internazionale a mostrare piena coesione in vista del comune obiettivo della stabilizzazione della Libia. Urge dunque lavorare innanzitutto in direzione di un cessato il fuoco e di un'immediata interruzione della spirale di contrapposizione militare preservando l'integrità di Tripoli e la distensione sul resto del territorio. Si tratta di una strada che riteniamo obbligata per ridare spazio al dialogo politico e ricostruire un minimo di fiducia tra le parti ai fini di un processo credibile, di un processo sostenibile. In questi mesi sono stato e sono in questi stessi giorni, ore, tuttora in contatto diretto con i due principali attori libici, il presidente Serraj e il generale Haftar. Con quest'ultimo nelle scorse ore ha avuto un contatto attraverso un suo emissario, così come anche con gli altri protagonisti del panorama politico interno. Il mio sostegno al governo di accordo nazionale è andato in questi mesi di pari passo con una forte azione di moral situation volta a identificare ogni possibile spazio di intesa politica con gli altri attori. A questo mi sono dedicato in varie occasioni, al corso di vari incontri. In particolare ricordo il mio incontro recente con Serraj, a margine del vertice Unione Europea Lega Araba, che si è svolto a Sharm el-Sheikh a fine febbraio. Alla vigilia proprio ho avuto un paio di incontri riservati con Serraj, alla vigilia della sua partenza per i colloqui di Abu Dhabi, che pure avevano suscitato una qualche speranza, a partire dalle stesse dichiarazioni del segretario generale dell'ONU, Guterres. Nei miei più recenti contatti ho esortato tutti a far cessare immediatamente le attività ostili che ostacolano il processo politico a guida ONU e mettono in pericolo la vita di civili innocenti. Ho ribadito, e lo ribadisco anche qui in quest'Aula, il nostro pieno sostegno al segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, al suo rappresentante speciale Salamè, per riportare le parti al tavolo negoziale e riattivare il processo politico guidato dalle Nazioni Unite, che la conferenza di Palermo era riuscita a riportare al centro dello sforzo internazionale. Entrambi i contendenti hanno sinora ignorato la proposta di UNSMIL per un cessato il fuoco umanitario temporaneo nelle aree a sud di Tripoli, interessate agli scontri. Però questo resta, senz'altro, l'obiettivo primario. Al momento la nostra ambasciata a Tripoli resta operativa, a pieno regime. Anche il personale militare italiano presente in Libia non è stato evacuato. I nostri interessi sul terreno sono parimenti tutelati. Monitoriamo naturalmente di ora in ora le condizioni di sicurezza del Paese, ma finché queste ultime ce lo consentiranno intendiamo rimanere al fianco del popolo libico e continuare a lavorare in prima linea per assicurare una transizione sostenibile. Forti del nostro approccio inclusivo, che è sempre stato inclusivo, sempre stato improntato al profondo rispetto della popolazione libica, e direi anche forte di un senso di responsabilità che in questione si acuisce perché ci deriva dal fatto, direi oggettivo, che siamo tra i pochi Paesi stranieri che hanno una credibilità che li pone in condizione di interloquire con tutti gli attori libici. Sono pertanto intensamente... non ci sfugge peraltro, scusate, che questa crisi è frutto certamente di debolezze strutturali del contesto locale, ma anche, attenzione, di influenze esterne che non sempre sono andate e si sono mosse sin qui nella direzione della stabilizzazione. L'instabilità protrattasi per otto anni in Libia va del resto inserita in un contesto regionale non meno critico. Pensiamo anche all'Algeria, agli sviluppi delle crisi del quadrante medio orientale. Dobbiamo purtroppo constatare che talvolta la stessa comunità internazionale invia segnali non univoci alle forze libiche, nonostante il forte impegno delle Nazioni Unite sul terreno. Sono pertanto intensamente impegnato sul piano diplomatico anche attraverso le mie missioni numerose all'estero. In virtù anche dell'azione del mio staff diplomatico, dei competenti organismi, abbiamo ulteriormente rafforzato in questi giorni il dialogo con tutti i principali stakeholder internazionali, a partire dagli Stati Uniti, dai partner europei e dagli attori regionali più influenti in Libia. Molto intensa è l'interlocuzione con Washington, in particolare con la Casa Bianca. Ricordo al proposito che il segretario di Stato, americano Pompeo, ha rilasciato il 7 aprile scorso un comunicato nel quale ha espresso profonda preoccupazione per il scontro in corso e ha fermato con determinazione l'opposizione degli Stati Uniti all'offensiva militare delle forze di Haftar. Quanto sta ora accadendo non fa che rilanciare l'urgenza del confronto politico e la necessità di una chiara, forte coesione internazionale a suo sostegno. Dobbiamo essere uniti nel condannare l'escalation militare e promuovere il confronto negoziale. Quello stesso confronto che i recenti incontri tra le parti ad Abu Dhabi sotto l'egida dell'ONU sembravano aver portato a un passo da un percorso una soluzione concreta. La tempistica degli scontri ci induce in effetti a pensare che il processo politico fosse stato avviato sulla strada giusta. Dobbiamo quindi profondere ogni energia per cercare di recuperarlo, evitando che ancora una volta possano prevalere in Libia le forze dell'instabilità permanente, della violenza e della conservazione di uno status quo di cui il popolo libico è il primo a pagare le spese. Non ci possono essere ambiguità o mistificazioni, a maggior ragione in un momento così critico ed in un contesto in cui la complessità delle forze in gioco esclude semplificazioni e scappatoie. Non vi sono interessi economici o geopolitici che possano giustificare derive militari e in ultima analisi il rischio di una guerra civile. La violenza genera violenza, genera ferite che difficilmente si rimarginano e non serve in ultima analisi né gli interessi della popolazione né quelli della comunità internazionale. Grazie per l'attenzione.